Abbiamo aperto le iscrizioni il 2 maggio per i nidi e le chiuderemo il 31 di maggio. I posti complessivamente disponibili nei nidi sono 508, ma quelli che si sono liberati sono 257. Ovviamente gli altri sono coperti dai bambini che continuano la frequenza. Sono 257 i posti disponibili per gli asili nido comunali per il 2018-2019 ad Ancona. Iscrizioni aperte fino a fine mese, tariffe secondo la fascia Isee, esenzione per i redditi sotto i 5.236 euro mensili per un Isee di circa 13.000 euro per il tempo parziale fino alle 14.30, che diventano 333 euro per quello pieno fino alle 17.30, riduzioni del 30% per il secondo figlio del 70% per il terzo o più. Iscrizioni in aumento, 60 bimbi in lista d'attesa nello scorso anno, dopo anni di mancate iscrizioni causa crisi economica. Due anni fa non avevamo più neanche liste d'attesa e invece quest'anno siamo di nuovo ritornati ad avere buoni numeri. L'anno scorso abbiamo avuto circa 60 domande rimaste in lista d'attesa nel corso dell'anno e in genere però dopo nel corso dell'anno riusciamo abbastanza a soddisfare la domanda. Questa è la situazione dei nidi anconetani. Noi abbiamo 13 nidi e abbiamo poi una sezione primavera comunale per bambini dai 2 ai 3 anni, mentre i nidi sono per bambini dai 3 ai 36 mesi e abbiamo un servizio che si chiama tempo per le famiglie, per bambini e genitori insieme. In programma per sabato 12 maggio un open day per i nidi comunali dalle 10 alle 12.30. E consiglio di andare a vedere di persona perché conoscere le educatrici, vedere gli ambienti e poter fare domande sicuramente rassicura i genitori e li fa scegliere più consapevolmente. Ci sono ricerche anche che dicono che in effetti i bambini che frequentano il nido poi nel futuro rendimento scolastico risultano avvantaggiati.